Signore e signori buongiornissimo, benvenuti in questo nuovissimo vlog A parte il fatto che ho la videocamera mobile non succedeva da tantissimo tempo Cioè un vlog del genere non lo facevo da secoli L'ultimo forse è quello lì dei coltelli ma neanche perché lì c'avevo comunque era dall'esterno in terza persona E devo dire che la mia videocamera pesa Sono abituato a vlogare sempre con l'iPhone che è leggero E vabbè, però per il 4K questo ed altro signori Per il 4K cambierò braccio ogni 30 secondi per evitare di rompermi una spalla o qualcosa del genere Fatto sta, signori, come avete detto dal titolo Oggi voglio fare un piccolo ragionamento sulla questione podcast Perché? Allora, intanto i più attenti di voi sicuramente avranno notato Che vabbè, da ormai due anni a questa parte, un anno e mezzo a questa parte Insomma, da un bel periodo a questa parte Realizzo a volte dei video che parlano magari di idee, di concetti, di cose in generale E diciamo che il format del video potrebbe essere anche leggermente superfluo Ad esempio, settimana scorsa ho fatto il video sulle cripto Il video sulle cripto, se uno va ad ascoltare solo l'audio Ha le stesse informazioni di chi guarda il video Perché, per l'appunto, è quella pasta lì Nel senso, è più per lo spiegare che non per il video Il video diventa lo strumento per condividere Inoltre, per i più attenti, per i più assidui di voi che seguono questo canale Avrete notato che il mio ultimo unboxing In realtà non era nient'altro che un super upgrade Di tutto il setup audio della mia scrivania In particolare abbiamo il nuovo microfono Che è questo qui, con l'asta che è arrivata Non ve l'ho fatto vedere nell'ultimo video, infatti, guarda È un'asta che si collega direttamente alla scrivania Senza fare buchi di nessun tipo E il design è molto carino, come potete vedere È tutto alluminio argentato E questa tua puoi muovere, insomma La metti nella posizione migliore di fronte alla bocca In modo da chi dia il suono migliore E poi ovviamente c'è la parte della scheda audio Ma queste le abbiamo già viste insieme all'interno dell'unboxing Questo è il preamplificatore Fatto sta che quando utilizzo questo microfono L'audio che ne viene fuori È davvero, davvero molto figo Sono contentissimo di aver speso comunque tanti soldi Perché sono tanti soldi Lo setup, bene o male, mi è costato 1000€ Solo per l'upgrade Se non parliamo delle cuffe che avevo comprato già in passato Quindi in totale sono circa 1600€ di setup audio Che comunque è considerato entry level E questa è la cosa che un po' Sono molto contento perché mi permette di avere una qualità audio Eccelsa E nel video dell'unboxing vi dicevo anche che è stato fatto Questo upgrade, questo acquisto Sempre nell'ottica un po' di un ipotetico podcast E quindi voglio rispondere alla domanda che ho messo in questo video Cioè, ma i podcast hanno senso? E la risposta è Dipende Come un po' tutto nella vita Mi spiego Allora, signori I podcast Ce ne sono di tantissimi tipi Ora, in Italia In particolare Podcast in italiano Ce ne sono alcuni che sono davvero fighi Ma non è un mondo che è ampio come all'estero In inglese Ovviamente, come potete immaginare Ci sono una quantità di podcast Che forse anche la metà bastava No, sto scherzando Tutti i podcast hanno bene o male senso di esistere E vi spiego perché Il podcast è quella Diciamo, quel medium Quello strumento Che ti permette di Voglio dire quasi capitalizzare Su del tempo che altrimenti non potresti utilizzare Mi spiego Io quando vado la mattina Prendo la metro per andare in un posto Se devo stare 25 minuti in metro A volte mi ascolto la musica Dipende da come sto con la giornata A volte mi attacco la prima parte di un podcast Che poi magari nel pomeriggio Non è da un'altra parte Allora mi ascolto l'altra metà del podcast Perché di solito i podcast durano Dai 40 minuti all'ora Poi dipende ovviamente da quale guardi Da quale ascolti più che altro E la cosa fighissima è che Di podcast ne trovi davvero Quanti ne vuoi Quindi se tu hai bisogno di un podcast Che parla di cucina Come migliorare E fare le ricette Tu la mattina ti puoi mettere lì E ascolti 20 minuti Di quello che ti Quello che interessa a te Capito? Nessuno dice che devi ascoltare i podcast di fantascienza Di tecnologia avanzata Di esplorazione spaziale Cioè se ti interessa te lo ascolti Se non ti interessa Cioè è sempre libero arbitrio Però il fatto di poter utilizzare del tempo Che altrimenti non sarebbe così produttivo È una figata pazzesca Per non parlare del fatto che Quando ascolti Cioè è un po' il principio degli audiolibri Io non sono un grande amante degli audiolibri Perché preferisco leggere normalmente Per un semplice motivo Se leggo sono più concentrato Rispetto ad ascoltare Però con i podcast è diverso Perché il podcast è una conversazione Spesso nei podcast ci sono anche più di una persona Ci sono due o tre persone Che fanno proprio un salottino E quindi è diverso da sentire qualcuno Che legge un libro Stai avendo una conversazione Senza la possibilità di rispondere Ok? Però è molto molto figo E come dicevo Ti permette di capitalizzare Su quel tempo Che altrimenti Sarebbe poco produttivo Non solo Puoi fare altro Metti caso Se hai in casa Tipo io in casa Non c'ho la lavastoviglia E quindi a volte Ti metti lì E la mattina Trovi il casino incredibile in cucina E a volte ti ci metti Dove fai? Ti metti a pulire Ci metti mezz'oretta Che fai? Ti metti la musica? A volte sì Niente contro la musica Anzi Viva la musica Però a volte Dici Non ci voglio ascoltare la musica Voglio ascoltarmi Un bel podcast Perché ho visto un podcast Che mi interessava Me lo sono salvato E voglio sentirmi Più che guardarmi questo podcast E ripeto Non è che uno Deve partire per forza Da podcast di un'ora Uno può ascoltarsi anche Tipo il podcast Da dieci minuti Da otto minuti Da cinque minuti Io stesso Come vi dicevo Nel video dell'unboxing Ho iniziato Tra virgolette Un podcast Che si trova Un po' dappertutto In realtà Cioè io già Se vado su Spotify Lo trovo Ma anche su Apple Podcast Su Spreaker Un po' dappertutto Come fai? In realtà Tutti possono aprire un podcast Ragazzi Non ci vuole nulla di che Basta un microfono Di qualche tipo E qualcosa da dire Basta Finito lì C'è questa piattaforma Che si chiama Anchor Ora quando mi sono iscritto io Era indipendente Ora è stata acquisita Dalla Spotify Come potete vedere E niente Tu metti il titolo Carichi i tuoi episodi Guarda Disponibile su otto piattaforme Anchor Ora sta fliccherando tutto Però vedete Google Podcast Apple Podcast Spotify Cioè non le conosco Io uso solo Spotify Praticamente Però è una piattaforma Che ti permette di condividere Quindi se hai qualcosa da dire Se vuoi provare Perché no E io l'ho iniziato questo podcast L'anno scorso ormai Un po' per noia Non è ancora un vero e proprio podcast Ora col microfono Posso effettivamente fare un episodio Quindi cercatemi su Spotify Basta cercare Surry E dovrei uscire Spero Anche se ho scoperto Che ci sono dei cantanti all'estero Che si chiamano Surry O che fanno canzoni Che si chiamano Surry Quindi se cercate Surry Potreste trovare tante cose Non solo al mio podcast Che devo fare Che ci vuoi fare Non lo so Non lo so Ecco E finora Guardi Faccio vedere gli episodi Finora non ho fatto tanti episodi Intro è la prima puntata Che dura tipo 30 secondi In cui dico Che ho iniziato questo podcast Perché voglio provare Ad aumentare la mia capacità Di comunicazione Quindi il modo in cui parlo In cui mi esprimo Fantastico direte Poi per il resto però In realtà Non ho mai fatto Un vero e proprio episodio Di un podcast Ho ricaricato La traccia audio Di alcuni video Che come vi dicevo All'inizio Si prestavano Ad essere più interpretati Come podcast Che non come veri e propri video Ed è per questo Che insomma Qua trovate Questa lista di contenuti Ma Come vi anticipavo Nell'unboxing Come vi sto ufficializzando ora Non solo penso Che i podcast Abbiano senso Ovviamente Sempre ognuno Con le sue Diciamo caratteristiche Ma penso che sia Un ottimo modo Per avere una conversazione Soprattutto se ci pensate Proprio come periodo storico E c'è Clubhouse E Discord Cioè Comunque la chat vocale È sempre un qualcosa Che ci accompagna In qualche modo Soprattutto Soprattutto noi gamer Nel senso La chat vocale Fa parte di moltissime esperienze Di gioco La prossima volta La prossima volta che sei per strada Magari non c'hai voglia Ad ascoltarti per l'ennesima volta La quattordicesima canzone La tua playlist Che ti ha rotto Il po' cazzo Prova ad ascoltare un podcast Ora In inglese ce ne sono davvero Di fighissimi In italiano in particolare Ce ne sono Molto fighi Sono un po' più di nicchia Ce ne sono alcuni Che parlano un po' di cose In generale Dovete trovare Quello che interessa a voi È quella la chiave Con tutto Ecco Io ora vi metto Qui un attimino Sul mio gancio Per registrare E andiamo a registrare Insieme La prima puntata Della seconda stagione Del mio podcast In cui Beh vado a spiegare Questa cosa qui Che vi ho appena detto Nel vlog In realtà Sì Signore e signori Benvenuti In questa prima puntata Della seconda stagione Di miei podcast Boom Easy One take Cioè devo solo fare Un piccolo taglio Guarda vi faccio vedere Il programma che utilizzo io Per registrare i podcast Ce ne sono tantissimi Senza ombra di dubbio Però Io mi trovo molto bene Venite con me un attimino Io mi trovo molto bene Con Adobe Audition Pago l'abbonamento Per tutta la suite Che sono tipo 60 euro al mese Non sono pochi 60 euro al mese Ma per quello che offre la suite Devo dire Non mi posso lamentare Ora per fare il taglio Si piglia la lametta Ora non so Se magari questo interessa a qualcuno Ci sono anche metodi gratuiti Ovviamente Non devi neanche Devi spendere 30-40 euro Per avere questo tipo di applicazione Già con Audacity Puoi fare la stessa cosa Io pago già questa suite E quindi Visto che c'è un programma professionale Per farlo Perché non usarlo Allora Sto riascoltando Signore Con le cuffie La qualità audio Che viene fuori Non solo dal microfono Non solo dalla scheda audio Ma da questo programma Con i plug-in base Perché Cioè è ridicolo Che questo è solo con i plug-in base Se uno volesse Potrebbe spendere più soldi Per avere dei plug-in Ancora più fighi Che ti rendono la voce Davvero tipo radiofonica Quindi se volete sapere Che tipo di effetto sonoro ha Questo microfono Questo setup audio Insomma proprio È un mood bello È caldo come microfono Un suono proprio piacevole Potete trovare Insomma questa seconda stagione Prima puntata Del mio podcast In giro Un po' Spotify Insomma Dove preferite Anche su Google Podcast Nel senso anche su Anchor In maniera gratuita Senza avere l'abbonamento Di Spotify Devo dire che Sentirlo in cuffia È davvero Davvero piacevole Davvero Davvero bello Allora Fatemi finire un attimino Finisco di ascoltarlo Lo renderizzo E lo carichiamo Signore e signori Benvenuti Ok Una volta editato Il file In questo caso Ho anche rimosso Dei rispiriti Tipo affannosi Perché non ancora Se ti apparebbe Nel microfono Salva Le impostazioni Lasciamo tutte standard Perché non saprei Cosa altro modificare Ok E la cosa bellissima Dei file audio Che sono velocissime Ad esportare E poi andiamo su Anchor Nuovo episodio Selezioniamo il nostro bel file E siamo pronti Lo sta caricando In realtà Da questo programma Potete registrare Anche direttamente Dal browser Insomma Vi dà già lui La possibilità Di fare delle cose Che non è male Potete anche aggiungere Della musica Transizioni Insomma Non è male Qui metti titolo Metti tutto E poi Guarda Seconda stagione Episodio numero zero Perché la intro E siamo pronti per pubblicare E ci siamo Ma è la tappa Può condividere tutto Però noi ce ne sbattiamo Un attimino E lo lasciamo lì Total number of plays Zero Che bello E questo è quanto signori Spero che questo video Vi sia piaciuto Spero che vi abbia dato Una prospettiva diversa Se non ce l'avevate Sui podcast E che magari Vi spinga ad ascoltarne Qualcuno Non per forza il mio Per questo video è tutto Ci vediamo nei prossimi giorni Con dei nuovi contenuti Ciao Turo Turo Tutti